Paura domenica pomeriggio a ridosso del supermercato Battocchio Romano Dezzelino dove un uomo è stato aggredito brutalmente da alcuni giovani dopo essere intervenuto per riprenderli per il rumore insopportabile tra gincane e sgommate che stavano facendo nel parcheggio. Un momento terribile come ci racconta uno dei testimoni che ci ha chiesto di mantenere l'anonimato per timore di ripercussioni. Sono passati tre a piedi e dopo è venuto giù un signore che abita la sua casa di A e sentivo gridare e in pratica si è avventato addosso e gli altri li butti per terra e ora mi sono giù qua in giardino e sono visto qua sotto a chiamare i carabinieri. In mezzo a una strada si sono picchiato? Ho visto che aveva tutta la testa, il sangue scendeva. Siete preoccupati voi i residenti? Senz'altro.